sono venuta a trovare i miei amici di musica insieme perché la lontananza dal teatro dalla musica è troppo grande e troppo profonda e allora volevo sapere che cosa si andrà a sentire nel prossimo futuro quali sono le idee perché vogliamo tornare a teatro vogliamo essere di nuovo sentire della bellissima musica conoscere gli artisti i giovani a cui bisogna pensare moltissimo perché sono fermi da mesi e mesi e allora viva la musica viva il teatro e viva tutti coloro che lavorano indifessamente per mandare avanti programmi progetti che si spera prestissimo vengano attuati buonasera grazie